Ok, allora Ferdinando Scianna, siciliano di Bagheria, è nato nel 1943, da quasi 50 anni fotografa, scrive anche, soprattutto parla e ve ne renderete conto questa sera, membro di Magnum Photos, direi il primo italiano a entrare in Magnum, ha pubblicato una trentina di libri, ma questo libro è vecchio, di due anni, quindi sono diventati un po' di più, 44. Nell'ultima di copertina c'è un virgolettato che credo che possa inquadrare bene il personaggio, il mondo, la vita, le persone mi appassionano, li fotografo per cercare di conoscerli, per conoscermi, per esprimere i pensieri, i sentimenti, le emozioni che mi suscitano, per conservare una traccia, per me la fotografia è racconto e memoria. C'è tutta una storia che verrà fuori sul tema dell'amicizia, anche perché insomma poi oggi è una giornata un po' particolare, per certi aspetti un po' triste, anche per Ferdinando che ha perso un carissimo amico e l'amicizia è uno dei grandi temi della fotografia e non soltanto naturalmente della fotografia perché l'amicizia poi riguarda le persone. Comunque grande amico di Cartier-Bresson, grande amico di Leonardo Sciascia, grande amico di Elio Terwitt, grande amico di Romeo Martinez, ma solo per citarne alcune. Ti volevo fare qualche domanda preliminare, una volta hai detto che avresti voluto o vorresti essere Elio Terwitt? Sì certo, sì, quando mi chiamano al telefono molto spesso mi dicono parlo con Ferdinando Shanna, io rispondo sì purtroppo. Allora qualcuno ci casca e mi domanda ma perché purtroppo? E dico ma perché avrei voluto essere Orson Welles o Elio Terwitt? Orson Welles perché era un genio, perché era grasso e perché gli piacevano le donne e perché è morto giovane. Elio Terwitt perché è per me dopo e accanto a Cartier-Bresson un punto il riferimento e perché in un certo senso è riuscito ad una cosa alla quale io non credo che potrò riuscire mai. Lui è un ebreo russo, io considero che sia una specie di Woody Allen della fotografia. Lui ci gioca anche, ci gioca per autodifesa e accredita l'idea di essere un fotografo spiritoso, addirittura che indaga il comico, ma in realtà lo indaga da ebreo russo con un'ambiguità, con una inquietudine estremamente affascinante. Allora l'idea che ci possesse un ebreo russo che riesce a produrre delle immagini che danno la sensazione della leggerezza, a me siciliano cui probabilmente la leggerezza è preclusa, mi incanta assolutamente. Quindi dico vorrei essere Elio Terwitt e aggiungo subito come fotografo perché le vicende della vita di Elio Terwitt, soprattutto con le mogli e relativi assegni, cose varie. Insomma la mia vita è già complicata così com'è per raggiungere complicazioni ulteriori di questa vita. Figuratevi che lui ha fatto un libro sulle coppie e questo libro è dedicato agli innamorati e ai loro avvocati. pensavo a proposito di un grandissimo fotografo per il quale io ho una stima enorme proprio pochi giorni fa che dicevo io penso che lui sia un grande fotografo e talmente preoccupato della perennità della sua fama anche dopo la morte che sarebbe stupefatto se tra 70 anni, tra 80 anni gli arrivassero dei segnali dall'Aldirà in cui gli dicessero sai quelle tue fotografie sono passate di moda, oggi sempre di moda sono le foto di Elio Terwitt. Allora se ci prometti di non scaldarti troppo volevo farti una domanda più legata all'attualità così un po' per introdurre ma io so ma credo anche il pubblico della tua grande passione per Bob Capa. E proprio ieri è uscita questa notizia, questa dichiarazione che la foto del miliziano non sarebbe sua. Non la conosco. Non la conosce, è uscita su tutti i giornali. E di chi? Di chi? Di chi sarebbe? Di Gerdataro? Parlano di Gerdataro, di una giovane assistente che era con lui. Insomma questa foto però ciclicamente torna fuori, torna protagonista. È la storia di Robert Capa che è un romanzo. Io credo di aver scritto forse 11 articoli sul miliziano, sul Robert Capa eccetera e attraverso questa storia che ho conosciuto Romeo Martinez per esempio a Parigi perché Romeo Martinez fu il primo a pubblicarla questa fotografia. Non so se l'ha fatta lui, certo è lui che l'ha mandato a Parigi dalla Spagna perché fosse pubblicata eccetera. È una storia talmente straordinaria. Non la conosco questa notizia, è uscita fuori me ne informerò perché per quanto annoiato mi continuo a divertire la faccenda. Però la cosa che mi ha più emozionato negli ultimi tempi dell'anno scorso se non mi sbaglio è stata ritrovata quella registrazione di un'intervista di Robert Capa fatta ancora alla fine degli anni 40 in Stato Uniti in cui con grandissima emozione da un rullo perduto si sente la voce di Robert Capa che racconta come ha fatto quella fotografia e lo fa in maniera così radicalmente antieroica. Dicendo che lui in un certo senso lui stesso potrebbe dire non è mia la foto perché io non l'ho vista lui questo racconta che quella foto non l'ha vista che era incastrato nella stessa trincea dove erano questo gruppo di miliziani anarchici che si buttava come dei pazzi contro dei nidi mitragliatrici perché uscivano perché se no quelli li avrebbero fatti fuori tutti. Quindi a turno uscivano per cercare di fare fuori quelli che con le mitragliatrici facevano fuori loro e Capa era incastrato così racconta ero lì come loro ma non tiravo neanche fuori la testa perché quelli appena uscivano fuori li falciavano. E quindi a un certo punto ho tirato su la macchina fotografica sopra la trincea e quando questi saltavano fuori io facevo la foto e ne ho fatto un certo numero. Quindi poi quel rullo io poi l'ho mandato a Parigi insieme a tante altre foto che aveva fatto in altre situazioni prima e dopo. E quando sono tornato a Parigi ho scoperto che ero diventato un fotografo famoso di guerra per una foto che io non avevo visto nel mirino, non l'avevo vista. insomma però uno non credo che racconti la storia di una fotografia raccontandola così per dire che in un certo senso è un... perché poi anche lì è una tecnica non è solo un intuito è anche una tecnica di scattare alla cieca che non è alla cieca eccetera e poi viene fuori che non l'ha fatta lui. Ma tutto è possibile, d'altra parte io ho incominciato una fortunata carriera, come si dice in questi casi, di fotografo di moda perché mi hanno cercato in quanto autore di fotografie che non erano mie, l'abbiamo scoperto 15 anni dopo. E quindi tutto è possibile insomma. Però questo equivoco va un po' precisato perché se no lasci dei sospesi. Che equivoco? Se ero sulla foto che non erano mie? No perché se vuoi lo leggo io. A un certo punto vengono a cercarti Dolce Gabbana. Sì sì sì. Io ti do l'incipit. Io ero appena tornato da Parigi insomma perché tante ragioni insomma ero stato mandato come corrispondente a Parigi dell'Europeo poi all'Arizola e all'Europeo sono successe cose turche, c'era la P2, l'amministrazione controllata, tutte quelle robe lì eccetera e io ero stato dieci anni a Parigi, mi ci avevano mandato per due anni e poi ci sono rimasto dieci anni. Lì ho conosciuto persone fondamentali per la mia vita, Cartier-Bresson con il quale siamo diventati amicissimi che è quello che poi mi ha fatto entrare la magna. Proprio quando io ho deciso di dimettermi dall'Europeo è di tornare perché non potevo reggere il vivere a Parigi con la comodità con cui vivevo, ero corrispondente, mi davano due stipendi, uno come corrispondente e uno come giornalista. avevo avuto l'acqua economico della mia vita, è stato quello. E tornavo a Milano perché iniziavo la casa e cose di questo genere e facevo il freelance. Una volta il mio ex direttore dell'Europeo che ho incontrato a Capri mi ha detto che cosa fai? Io ho detto adesso faccio il freelance e lui mi ha detto lo sai che la traduzione inglese è disoccupato. E in effetti io questo facevo, insomma, ho disoccupato dalla ricerca di lavoro. E a un certo punto ho ricevuto la telefonata una mattina a casa perché non c'era ancora neanche lo studio. E dice mi chiamo Domenico Dolce, insieme al mio amico Stefano Gabban, mai sentito il nominale da me, e credo da pochi all'ora perché era l'inizio dell'86, facciamo dei vestiti, ci ispiriamo alla donna siciliana perché io sono siciliano. Abbiamo visto delle foto sue che ci sono molto piaciute e noi vorremmo fare un catalogo di moda con un fotografo che non sia un fotografo di moda. E io ho detto ma io non ho mai fatto. Ma poi Stefano, che foto sono? No, no, sono delle foto della Sicilia e la nostra cliente palerbitana, la signora Torregrossa, ci ha detto che sono sue. Ma vabbè, però questo rovello mi era rimasto, intanto mi è andato, ma quali erano queste foto? Ma comunque a un certo punto l'abbiamo dato, per me loro sono venuti in studio, in studio a casa, e io ho mostrato dei libri sulla Sicilia, le feste religiose, niente di meno, le 65, i siciliani che nel frattempo erano usciti a Parigi e loro erano meravigliosi, erano seduti su un'ottomana, un modello marcia su Roma che mi aveva regalato un mio amico ed erano bellissimi perché Domenico Dolce che è siciliano, brevilinio come me, brevilinio come lo Zeus del museo di Atene, mica scherzi, quindi i piedi non li appoggiava perché quell'ottomana è un po' altina, del resto neanche io li appoggio, invece Stefano Gabbana appoggia che è una bellezza. E allora io facevo altre cose e loro si parlavano così, a un certo punto Stefano Gabbana ha detto questa frase, io la racconto sempre questa storia perché è veramente surreale, e ha detto questa frase incredibile, ha detto ma guardi è proprio quello che vogliamo noi, il nostro look col suo feeling. E io proprio questo ho fatto, mi sono messo a ridere come voi, dopodiché mentre ridevo, vedevo che questi qui mi guardavano con l'arice, ma questo perché ride? Mi ero reso conto che avevo fatto una gaffe per ignoranza dello slang modaiolo e cose di questo. Allora per riparare mi sono affrettato a dire, vabbè il mio feeling è a disposizione del vostro look, che dobbiamo fare? E così è nata la cosa, insomma, così è nata la cosa, siamo poi partiti alla pensione Mariuccia, non c'era né parrucchia né truccatore perché loro non avevano i soldi per pagarli, la macchina con la quale siamo andati in giro era la macchina che gli prestava il fratello di Domenico Dolce, insomma una situazione di meravigliosa libertà per uno che comincia a fare, ho scoperto dopo che quella era una condizione ideale, che invece poi era tutto un apparato che si frapponeva tra te e la spontaneità, e poi io non l'avevo mai fatto, quindi insomma mi verificavo con una cosa che man mano a mano che la facevo mi divertiva da pazzi, insomma, mi divertiva perché intanto perché c'era una gnocca formidabile davanti a me, poi anche perché mi trattavano, cioè il fotoreporter è quello che siede sullo strabuttino, guadagna un quarto dei giornalisti, invece qui il fotografo è protagonista della faccenda, però Marpessa si truccava da solo, era così il clima, era una meraviglia, ma questo l'ho scoperto dopo che era una meraviglia. E io ho fatto un'operazione molto bizzarra, nel senso che mettevo questa bellissima ragazza che stava poi tra l'altro così bene con quei vestiti ancora così legati alla memoria di Domenico Dolce, della Sicilia, della mia stessa Sicilia, la mettevo nel contesto dove io avevo vissuto sino a 22 anni, nel contesto delle mie stesse fotografie, era un'operazione nello stesso tempo esistenziale fotografica, che io facevo con giubilazione e nello stesso tempo con un meraviglioso complesso di colpa, perché intanto perché avevo nei confronti dei fotografi di moda dei pregiudizi, si occupavano di stupidate, e poi anche perché trasgredivo alla regola numero uno del decalogo di Cartier-Bresson, quando Cartier-Bresson è sceso, lui era Mosè e Dio contemporaneamente, quindi non è che portava le tavole che qualcun altro gli aveva dato, era lui che aveva scritto le tavole. Probabilmente l'articolo numero uno del decalogo bressoniano è il fotografo non deve intervenire sulla realtà, il fotografo è un testimone invisibile, e cose di questo genere. E invece c'era quella lì, dicevo mettiti lì in mezzo, oppure scendi di nuovo la scala. Cioè io dirigevo, facevo il regista, quindi peccavo. E siccome tutti quanti qui, credo, siamo figli di una cultura di tipo cattolico, se non c'è peccato, che divertimento c'è? E quindi mi divertivo moltissimo. Poi quella cosa ebbe una tale, un incomprensibile, insomma ancora per me adesso incomprensibile, perché poi l'unica che avesse prestigio, che fosse conosciuta nel mondo della moda, era la modella marpessa, perché io moda non l'avevo mai fatto, Dolce e Gabbana avevano appena cominciato, quindi era lei che era preoccupata, semmai, di che cosa veniva a fare con questo fotografo sconosciuto e cose di questo genere. Però insomma ci siamo divertiti. Poi è venuto fuori questo catalogo che ha avuto un successo incomprensibile, come ripeto, recensito dalla Washington Post, con le redattrici di moda che erano a fogli sciolti, se lo attaccavano negli uffici. Figuratevi che una redattrice di moda che allora era assistente, stilista in Germania, venti anni dopo che era diventata stylist in un giornale tedesco, mi ha detto io vorrei celebrare l'anniversario di quelle fotografie che ha avuto attaccato. Insomma, un successo fantastico. E così per sette, otto, sette anni, mi chiamavano da tutti i più grandi giornali internazionali di moda, io che non l'avevo mai fatta. Ed era affascinante, finché mi sono reso conto che stava andando oltre il divertimento, che può sembrare una cosa snob, però una volta l'ho sentita poi in una detta da Elmuth Newton, in un documentario su di lui, in cui parlava del periodo del suo intenso lavoro come fotografo di moda. lui diceva, arrivi in una città, bellissima possibilmente, poi lui lavorava soprattutto in ambienti urbani, e vai in un albergo di lusso, dove trovi questa redattrice che dice Elmuth, che bellezza vederti, e poi ti porta in una suite dove ci sono appesi 25-30 abiti, e a te ti vengono subito dei coranti di vomito, perché dici, Dio mio, dovrei avere un'idea per ciascuno di questi abiti qui. E poi all'inizio è eccitantissimo, una meravigliosa ragazza che si veste, si spoglia, si veste, si spoglia, si veste, si spoglia, tutti si sempre domandati, l'hai finita? Ce l'hai? Allora quella poi si spoglia, con l'attenzione, però a un certo punto questa qui che si veste, si spoglia, non ne puoi proprio più, anche perché a un certo punto il terrore è adesso cosa faccio, più che altro. Io probabilmente ero facilitato dal fatto che me lo facevo dire dal mondo che cosa dovevo fare, non partivo mai con l'idea di una foto che dovevo fare in un certo modo, me lo suggeriva il mondo, come da reporter in un certo senso. il mio primo parrucchiere che mi fece, poi ho fatto un lavoro, quando si sempre di questa cosa, un giornale mi chiese di fare un reportage di moda, giornalistico, per il giornale moda, ed era una roba che facevamo, erano tre fotografi, tre parti dell'Italia, naturalmente a me mi toccava il sud, e questa la redattrice lì mi domandò, tu hai un assistente, vuoi un assistente? E io ho detto, per fare che? Dice, ma come? I fotografi hanno un assistente, non io, faccio il fotografo da 25 anni, i rullini me li carico io, in fondo di questo si tratta, purtroppo mi porto indietro la borsa pure io, insomma, e mi ci sono rovinato la schiena, quindi niente assistente, però c'era un parrucchiere, truccatore, perché io non volevo due, perché se no poi... E questo qui poi, tornato da questo lavoro, parlando con un ragazzo che poi diventò il mio primo, più importante assistente in questa avventura della moda, dice, ho lavorato con uno pazzo, dice, figurati, è uno che non sa assolutamente quello che vuole, non aveva l'assistente, siamo usciti dall'albergo, e lui ha detto, ma portatevi un paio di vestiti, per cui oltre alle mie cose del trucco e parrucco, dovevo andare in giro con un vestito, lui è uscito e ha detto, andiamo di qua, ha fatto 30 metri, e poi ha detto, ma no, andiamo di là, non sapeva neanche dove voleva andare, ed era vero, nel senso che l'approccio mio come fotografo di moda era esattamente quello del reporter, andiamo di là, se qualcosa mi suscita, mi produce un'idea, una voglia di inserire questo elemento lì, in mezzo lo faccio, e quindi era divertente come fare il reporter, però con in più questo gioco diciamo della fibrillazione erotica che implica comunque sempre la fotografia di moda. Vabbè, se no poi la facciamo troppo lunga. Non è molto difficile intervistare Ferdinando, avete capito? rinuncio al compenso. Non fa fare domande. Dottoressa Fabiani, rinuncio al compenso. Prego, non c'è, non c'è il compenso, a parte gli scherzi. Allora, questo è celebrato lavoro di moda, come dire, hai dovuto però fare anche i conti con la Magnum, mi raccontavi che insomma non l'avevano presa così bene i tuoi compagni di viaggio di questa agenzia, addirittura insomma mi avevi raccontato una volta che ti avevano trattato come un cane. Hai usato questa... Mi hanno trattato come un cane due volte. Beh, però quella volta lì della moda poi alla fine a quanto pare loro si sono sbranati come i cani però poi hanno votato hanno votato a favore mentre invece quando avevo presentato un lavoro all'inizio che ero alla Magnum ancora nominì quindi che dovevo fare tutti i miei begli esamini per andare avanti nella cosa. io avevo avuto un'idea che secondo me era un'eccellente idea avevo cominciato a farla che era un'indagine sulla trasformazione del paesaggio dovuta alla pubblicità la mia idea era se Cervantes iscrivesse oggi un Don Quixote Don Quixote non avrebbe bisogno di immaginare che dei mulini al vento sono dei giganti perché le nostre città sono abitate dai giganti dei grandi manifesti pubblicitari che in un certo senso costituiscono una specie di superio dell'immaginazione collettiva culturale eccetera eccetera questa cosa venne considerata una porcheria un'idea idiota poi si sono presi Marti Parro però qualche anno dopo vabbè non ho avuto il coraggio di difenderla abbastanza avete preso anche questo Mr. Brown che fotografa solo col cellulare sì sì tra un poco fotografaranno anche con col pollicione insomma ognuno ma ci sono là dentro anche il mondo cambia perché Magnum non dovrebbe cambiare e quindi poi tra l'altro il mondo cambia in peggio perché Magnum non dovrebbe cambiare in peggio prima hai dato un'informazione che forse è passata inosservata o forse siamo noi che diamo troppa importanza ma le feste religiose è del 65 del gennaio del 65 quindi quest'anno fa 50 anni quindi diciamo quando tu hai incontrato la fotografia hai quasi subito incontrato i libri e poi diciamo questa passione probabilmente ti è rimasta e hai fatto ovviamente dei libri importanti durante durante la tua carriera dedicati alla moda dedicati al reportage dedicati alle tue ossessioni questo libro dormire fotografavi tutte le persone che dormivano i cani quello non lo sapevo però l'hai scoperto dopo ecco però diciamo a un certo punto i libri sono diventati quasi più importanti del produrre fotografia io non non sapevo niente ogni tanto mia figlia che ha 20 anni diceva ma tu hai fatto un libro avventurale tu già sapevi quello che voleva non è vero non sapevo niente andavo dietro al mio naso e poi si incrociavano tutta una serie di cose per cui ho avuto la fortuna strepitosa di intanto di incontrare persone formidabili che mi pigliavano e siccome io se c'è una cosa sulla quale forse ce l'ho ancora però certo tutto si affievolisce insomma ma l'unico talento che mi è stato riconosciuto quando ero ragazzo è che io riconoscevo le persone molto migliori di me che mi appassionavano e come una cozza da quello scoglio non mi toglieva più nessuno e da quelli lì io devo tutto a loro insomma assolutamente tutto Leonardo a casa di Romeo Martinez e siamo diventati amici come con poche persone io sono stato tanto intensamente amico e parlavamo di tutto con Henry probabilmente la cosa di cui parlavamo di meno era la fotografia avevamo una tale consonanza su tante cose eccetera eccetera poi Vasquez Montalban il marxista godereccio che è di intelligenza assolutamente prodigiosa l'inventore del commissario di Pepe Carvaio insomma a quale poi il nome dell'autore è diventato il nome dell'investigatore di Camilleri tanto Camilleri lo stimava insomma ancora qualche qualcuna di questi miracoli ancora mi succede quando scattano delle nuove passioni su certi territori diversi che so per esempio questa mia mania di scrivere degli ultimi tempi ho conosciuto delle persone che avevano a che fare con il mondo diciamo della letteratura che bontà loro mi hanno dato oppure la mia passione per le neuroscienze degli ultimi anni mi ha fatto diventare amico di di Boncinelli insomma le cari cose e quelli lì si aprono me le offrono e questa è la meraviglia della vita perché poi alla fine quello che conta sono i rapporti con le persone anzi quella è la cosa che soprattutto conta non è un caso che dopo diciamo 50 anni di fotografia io l'ultimo libro a cui sono molto affezionato anche perché spero che presto diventi il penultimo ne facciamo degli altri è questo libro che io ho fatto con oltre 350 ritratti per ciascuno dei quali ho sentito la necessità di scrivere un testo perché è un libro che costruisce diciamo attraverso gli altri me stesso perché io mi rendo conto che io sono loro che da loro ho preso tutto e non sono solo le persone famose ed importanti il libro si conclude con una foto del mio portinaio di via Castelfidardo che è una specie di eroe proletario che ha 83 anni e ancora lavora lì e che mi ha insegnato tante cose io la mattina faccio il caffè lo chiamo edoardo lui viene si beve questo caffè con me si accende una sigaretta e mi racconta delle storie della sua vita insomma pazzesche di uno che ha cominciato a lavorare a 8 anni e che dava il suo stipendio alla madre e che adesso dà la moglie non è cambiato niente gli danno dei soldi per comprarsi le sigarette è un po' di francoboli del Vaticano ma sta smettendo anche quei francoboli del Vaticano che non si trovano insomma allora per un certo periodo io ho dovuto cercare anche i calendari dei carabinieri ma a un certo punto questa troppo stressa comunità che avevo conosciuto un colonnello però alla terza volta non volevo più chiedergli il calendario per il mio portinale ma insomma per dire che quelle persone sono la mia vita quando dico specchio intendo cioè quando ho messo insieme questo libro al quale ho lavorato 5-6 anni poi a un certo punto l'editore mi ha detto ma non c'era niente una prefazione una cosa una presentazione no ma una cosa come una specie di risposta e io ho scritto una cosa che poi qualcuno mi ha detto però è ruffiana certo ma perché le cose autentiche sono ruffiane così è se tu dici la verità non c'è calcolo più sottile che quello di dire la verità e allora ho detto la verità cioè ho detto che mi capitava spesso di fare un sogno che entravo in una piazza una grande piazza e in questa piazza c'erano le persone tante persone e io a poco a poco le riconoscevo tutti c'erano tante persone morte i miei compagni di giochi i miei parenti gli amici le persone che ho incrociato nei libri e fuori dai libri eccetera e tutte quante mi suscitavano ricordi emozioni cose di questo genere e io dico quella piazza è diventata questo libro non ho potuto metterceli tutti quelli che nel sogno della piazza che era un sogno felice pensate che sogno felice ho fatto purtroppo dopo che ho pubblicato sto cavolo di libro non me lo sogno più perché quando ho detto questa piazza e questo libro adesso allora devo andare a sfogliare il libro non ero stesso quelli erano vivi mi parlavano ma è così è così che io ho pensato a questo libro è così che io penso la mia vita in questo libro appunto l'autoritratto di un fotografo dove ti descrivi e insomma cominci con delle vicende anche così molto 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 private diciamo due cose mi hanno colpito la prima è quando dici quando un po' insomma ti risenti dici artista sarà lei hai una reazione estizzita di fronte a quelle persone che ti chiamano maestro che ti chiamano artista sì ma c'è una vicenda specifica cioè sempre ci sono delle vicende specifiche io sono fotografo di recente ho pubblicato per far piacere un mio caro amico che fa dei librini in pochi esemplari preziosissimi eccetera eccetera e lui mi ha detto arrivo al numero 100 cosa possiamo fare insieme una roba sul leggere sulla lettura tu ti occupi pubblichi libri allora diceva come il titolo ho detto lettori e dice perché non lettura che c'entra io faccio fotografo io non posso fotografare la lettura come la fotografia non fotografa concetti non fotografa pensieri la fotografia fotografa cose fotografa persone fotografa si può declinare soltanto al singolare diceva Roland Barthes e da lì me ne vengono anche tante discussioni di carattere critico per esempio su questo tragico secondo me malinteso a proposito dei ritratti di Sander che da Doblin a Ghirri sostengono che Sander non fotografava persone fotografava tipi non il pasticciere un pasticciere basta guardare la fotografia di Sander di quel pasticciere e voi saprete immediatamente che non lo confonderete mai più con nessun altro pasticciere di qualunque città del mondo di oggi o di domani o del passato perché la fotografia è quella cosa lì Cézanne può dipingere delle mele a memoria ma un fotografo se non c'è la mela non c'è la foto ci deve essere la mela il suo discorso nasce dall'incontro personale quindi questo è sempre stato molto interessante perché mi ha invaso con la fortuna di avere Leonardo Sciascia accanto a me perché tu dici subito un libro sì certo e quello in un certo senso mi ha condizionato io sapevo che avrei voluto fare un libro ma non è che lo sapevo con precisione l'incontro con Sciascia mi ha chiarito tante cose che io già facevo le foto e ci siamo incontrati perché lui aveva visto le mie foto però sulle mie foto lui mi ha detto cose che mi hanno influenzato in maniera retroattiva addirittura cioè mi ha fatto capire quello che io stavo facendo senza capirlo e l'uscita di quel libro inaugurò anche una cosa che poi accompagnò Sciascia per tutta la vita che ogni volta che usciva il libro c'era l'inferno delle polemiche alle presentazioni di quel librino feste religiose in Sicilia con un titolo così diciamo quasi antropologico succedeva l'inferno mi ricordo che a Catania urla un professore di università urlava come un pazzo in un'altra presentazione poi tra l'altro anche qui alla libreria Paesi Nuovi a Roma volevano le sedie ma perché? bisogna rimettersi nella situazione culturale politica di allora c'era Jedda c'era c'era l'azione cattolica di Jedda c'era lo scontro tra la destra e la sinistra in cui Stalin quando voti non ti vede ma Dio sì c'era un mondo di questo genere insomma quindi venivano quelli che dicevano ma perché si infuriavano tanto perché Shasha in un suo saggio meraviglioso dice la fortuna cominciare la tua vita con un libro con un saggio di questa dimensione che partendo da Serafina Amabile Guasterra cioè da tutto un'analisi storico-culturale della cultura religiosa specialmente in Sicilia sosteneva una cosa che adesso non farebbe sternutire neanche una formica cioè diceva che la cultura religiosa dei siciliani non ha niente di metafisico è profondamente materialistica è un'idea sostanzialmente politica il rapporto col santo è il rapporto che hai con il deputato locale tu voti per lui così quello poi ti fa avere il posto per il tuo figlio e la stessa cosa si chiedono cose concrete non mi fare morire la vacca non fare piovere durante il raccolto cose così infatti c'erano le guerre dei santi si ammazzavano di legnate per i devoti di un santo nei confronti di un altro santo io poi questa cosa l'ho verificata mille volte poi nella nella quotidianità un prete che mi disse sull'Etna che lui era diventato prete perché nell'eruzione del 37 a Sant'Alfio la lava era arrivata quasi al paese e ci fu questa precessione incredibile tutti che piangevano con la reliquia di Sant'Agata davanti a questa lava e lì avvenne il melaco la lava lì dove si erano inginocchiati i fedeli si fermò e lui ne fu talmente colpito che si stesse a seminare e si fece prete ora io sapevo poi la storia che era successo io gli ho detto senta ma poi cosa è successo cioè vuoi dire l'eruzione si fermò no dice purtroppo la lava aprì un altro fronte un po' più in basso e si mangiò mezzo paese che era lì accanto allora io con malizia gli ho chiesto ma chi era il santo protettore di quest'altro paese e lui dice San Galogero e lui ha detto ah certo lei è miscredente poi tornando mi ha detto ma lei fa il miscredente però in definitivo qual è il potere di intercessione di un santo presso il nostro Signore è la fede dei suoi fedeli quindi quella sant'è che aveva più voti di San Galogero e quella si fottò il paese di San Galogero quindi voglio dire era una cosa Ciaccia questo raccontava in quel suo saggio raccontava di un certo tipo di relazione che la quale peraltro faceva un'eccezione diceva l'unico grande momento di afflato religioso è quello della settimana santa dove si contempla il dolore di una madre per la morte di un figlio crocifisso e tradito dalla sua cosca si potrebbe dire una storia siciliana però profondamente sentita il dolore la madre questo qui è veramente il fondo della religiosità generale di quella meridionale però questo qui faceva impazzire della gente per cui si lavava quello lì con la schiupa alla bocca e diceva ma lei pretende di fotografare la religiosità e la religiosità non si può fotografare e allora io ho sentito una risposta memorabile di Shasha che aveva detto questo è assolutamente vero non si può fotografare neanche l'imbecillità si può fotografare ma l'imbecille sì si può fotografare no e facevo un esempio coltissimo peraltro in cui diceva per esempio che il ritratto di Richard Avedon di Eisenhower era il momento del volo degli U2 mostrava la faccia di un iniquivocabile imbecille insomma comunque ero discorso per cui questa cosa qui a me mi ha accompagnato perché proprio l'autore di una stroncatura su due colonne sull'osservatore romano di quel libro nel quale io ero coinvolto anche se avevano con Shasha però vi ricordate che c'era il professore Braibanti mi pare che era stato condannato per plagio così si portava molto il plagio in quel periodo per cui ero il giovane fotografo dagli occhi azzurri e volti verso la bellezza plagiato da Shasha per fare da supporto a queste blasfemie quando ci fu la presentazione in questa libreria di Roma questo stesso estensore della stroncatura sull'osservatore romano mi presentò dicendo questo il giovane Shasha artista come si vede benissimo dalle sue fotografie e che cos'è un artista un artista è qualcuno che inventa la realtà il sogno quindi il discorso era tutta una grande promozione per rimozione nel quale io ero promosso artista per dire che in fondo gli artisti dicono delle bambanali che bisogna prenderle sul serio sul piano storico eccetera e allora a me mi sorse spontanea quella reazione che poi mi ha accompagnato fino ai miei 72 anni e quando mi dicono artista io dico artista sarà lei e sua sorella perché è una forma di insulto che vuole essere una promozione ma che di fatto diventa un insulto è come la storia del maestro c'era quello che vendeva tre pappagalli e il primo costava carissimo ma perché costa così caro figurarsi questo qui è stato il pappagallo di due grandi ingegneri e tu gli fai il disegno di un ponte e quello ti calcola il cemento armato cioè la madonna però 10.000 sterline e quest'altro questo costa di più 15.000 ma perché c'è una idea partecipa ai simposi di filosofia è il più grande aspetto di Wittgenstein che c'è in Europa e dice e quest'altro e dice questo costa anche di più ma perché di qual è la storia lui non mi ha mai sentito di via non dice nulla e dice allora perché costa tanto caro gli altri due lo chiamano maestro vabbè l'ha presa larga ma alla fine ha risposto quindi davvero grazie qui al Maxi mi hanno chiesto ci puoi mandare una biografia e io l'ho scritta ma non mi è venuto in mente di scrivere lombardo si sente dalla voce no? invece io si poi ho guardato la tua ogni volta siciliano cominci sempre così e anche nel libro ma non sono solo io no tutti siciliani lo fanno è appunto e a un certo punto vabbè fai poesia di questo grazie e a un certo punto dici non lo dici tu ma che bisogna avere un paese a cui tornare e solo così si possono cominciare le avventure e questa cosa della Sicilia quella di andarsene è un po' un destino così la descrivi certo ci sono dei posti io non lo so io conosco l'Abruzzo lo trovo un paese meraviglioso però a parte d'annunzio non vedo mai uno scrittore che comincia dicendo è Abruzzese non lo fa io paradossalmente Lombardo lo potrei fare lo potrei dire perché in definitiva ho vissuto in Lombardia a Milano e con grande amore peraltro più tempo di quanto abbia vissuto in Sicilia però a parte che più gli anni passano e più il mio accento torna non che abbia mai voluto rimuoverlo però è una specie di deriva di deriva diciamo quasi biologica tu non puoi smettere di essere quello che vuoi la mia formula è ho cercato per 50 anni di divorziare dalla Sicilia ma lei non ne vuole sapere non c'è niente da fare non me lo concederà mai questo divorzio sono anche andato via dicendo non ci tornerò neanche morto perché dalla Sicilia non è che si va via si fugge a gambe levate però dopo essere fuggiti proprio durante la fuga ti fai addosso una tale quantità di piaghe che quelle lì non te le devi addosso mai devi sempre farci conti nec tecum nec sine te l'odio l'amore quelle robe ci sono dei posti forti dove la storia a forza di dolcezza e di violenza ti lascia dentro delle cicatrici ma anche delle tracce inamovibili ci ho messo poi tanti anni per incontrare la frase di Camus che diceva l'Algeria mi ha insegnato che non c'è soltanto il sole e il mare ma c'è anche il dolore e l'ingiustizia e diceva l'Algeria mi ha insegnato che non c'è soltanto il dolore e l'ingiustizia ma c'è anche il sole il mare la dolcezza degli amici eccetera adesso purtroppo vanno morendo tutti sono morti tutti eccetera però quando io tornavo in Sicilia quando ancora torno in Sicilia ancora incrocio di quegli amici con i quali consumavamo il percorso Piazza Matrice Villa Palagonia conversazioni più straordinarie che con loro in giro è difficile avere perché questi qui hanno dentro il loro più drammatico e profondo cromosoma il sentimento della morte per esempio il sentimento della morte non è una cosa tanto diffusa la trovi in Andalusia certe volte ora il sentimento della morte significa che tu cominci a pensare a partire dalla morte che la morte non è soltanto un pensiero è il pensiero Ignazio Buttitta mio conterraneo diceva se io se non ci fosse la morte io non avrei 90 anni perché non ha senso se non ci fosse la morte non ci sarebbe niente da piangere non ci sarebbe neanche niente da ridere la morte ti dà l'idea del limite e quindi è questo il pensiero è un pensiero che fa un percorso ora questa cosa qui non te la puoi scrollare di dosso quindi in un certo senso se io devo cominciare a parlare di me io dico Ferdinando Sciarra di Bagheria siciliano di Bagheria nel 1943 perché mi sembra che se non dico questa cosa potrei come Einstein dire di razza umana però è quel tipo di razza umana che è nato in Sicilia ecco e che quindi va detto perché si capiscano certe cose io poi che non credo di produrre di avere prodotto una fotografia che abbia una potenza che possa prescindere dal dato storico dal dato culturale persino dal dato biografico che è sempre ambiguo penso che la mia fotografia ha bisogno di racconto cioè racconta e ha bisogno di racconto più cose più cose la gente sa da dove vieni da dove viene lui che guarda e più quelle cose producono nuove sfaccettature di racconto che poi sono quelle che fanno la fortuna di un fotografo di uno scrittore eccetera io sono convinto che le fotografie come i romanzi come le fanno i lettori le fanno quelle che le guardano c'è una poesia straordinaria di Borges in cui Borges dice lettore perdonami se il caso vuole che io sia l'autore di questo poema e tu il lettore ma è possibile che tu migliore di me nel leggere questo poema ci metterai sensibilità e intelligenza superiore a quelle che io ho creduto di metterci ti prego lettore fallo benefica perché è così questo nasce da che cosa da un pregiudizio che l'autore è più importante del lettore no del lettore dico anche di quello che guarda una fotografia di quello che legge un libro guarda un film eccetera ma è un pregiudizio un libro chiuso è un parallelepipedo non è niente e quando qualcuno lo legge che diventa libro che allora nasce questo dialogo tra chi l'ha scritto e chi lo legge e questo è facile da dimostrare tutti qui almeno quelli che hanno una certa età gli è capitato di leggere soprattutto se è un grande libro da ragazzi e poi da maturi da anziani da me è capitato il recente con Kim per esempio e io l'avevo letto che avevo 14 anni e l'avevo letto come un meraviglioso libro di avventure e cose questo ragazzo seduto sul cannone e poi questo mondo imperscrutabile che era nello stesso tempo favoloso e da servizi segreti quando l'ho letto a 14 anni di questo mi parlava adesso che l'ho letto a 65 adesso insomma diciamo già sette anni fa mi parlava di Ferdinando Scena di 65 anni di quei problemi ho capito che era un grande libro di iniziazione era un libro di filosofia le parole erano le stesse le punti le virgole erano gli stessi però il dialogo cambiava tra me e quel libro ed era vero quando avevo 14 anni e lo era adesso che ne avevo 65 d'altra parte un grande libro letto da un imbecille è un libro imbecille diventa un libro imbecille succede anche ahimè nella critica letteraria che un libro imbecille interpretato da un uomo geniale possa essere scambiato per un libro geniale ma è una cosa rara dunque la queste se non sbaglio doveva esserci qua Giovanni Gastel poi non non poteva venire quindi vi saluta e lui dice che quando ha cominciato quando ha comunicato a suo papà che voleva fare il fotografo il papà in modo sprezzante gli ha regalato un pettine e uno specchio perché dice tanto il fotografo vuol dire che farai le fototessere c'è un po' con disprezzo lo diceva e lui ha conservato il pettine e lo specchio come porta fortuna e insomma ha avuto abbastanza fortuna una cosa simile è successa anche a te in modo diverso sì credo che sia successa un po' tu c'è Giovanni Gastel insomma abbiamo fatto in due anni successivi delle foto per la stessa di tipo pubblicitario per la stessa industria di scarpe solo che io scom'è avevo debuttato la mostra di quella roba lì me l'avano fatta nel loro showroom scom'è era andata bene quella di Gastel l'hanno fatta a Palazzo Cerbelloni e io ero ero lì ed era meraviglioso Giovanni perché diceva io sono molto emozionato perché in queste sale correva ci abitava mia nonna eccetera e io pensavo in quale stalla correvo io alla sua età bagheria e cose e cose di questo genere quindi però nonostante ciò nonostante appunto il background diciamo culturale ed economico diverso comunque il padre di Giovanni aveva nei confronti del mestiere di fotografo lo stesso disprezzo e la stessa sostanziale incomprensione che aveva il mio ma questa qui lui mi induce a raccontarla perché pure fa ridere mi sto cercando di ridere io stesso perché questa sera oggi è veramente una giornata cupa per me per un mio amico ma comunque sia quando io gli ho detto a mio padre che volevo fare il fotografo vabbè io gli ho detto che volevo fare il corridore ciclista e il presentatore della televisione ma lui capì che quella volta che questa era una cosa seria che era davvero vero e siccome capì questa cosa ne fu distrutto perché tutto quello che lui aveva come desiderio ed ambizione per la mia vita gli si sparinava davanti e io me lo ricordo bene questa cosa la racconto perché lui continuava a ripetere il fotografo il fotografo e diceva ma che mestiere è? ma che mestiere è? e lo ripeteva ossessivamente ma che mestiere è? e poi a un certo punto disse questa frase che io poi ho scritto insomma ho dovuto aspettare di leggere Roland Barth Oliver Wendell Holmes per capire la relazione tra la fotografia la morte e tutte queste cose lui ha detto uno che ammazza i vivi e resuscita i morti una frase imperscrutabile e meravigliosa che io non riusci non ho mai più trovato una definizione della fotografia così filosoficamente profonda solo che lui non è che voleva darmi una definizione filosofica lui si riferiva a un'esperienza sua personale esistenziale perché guarda che c'è a Bagheria c'era quando lui era bambino un solo fotografo e si chiamava Coglitore che io dico sempre che è un nome meraviglioso per un fotografo il Coglitore e il paese era piccolo e succedeva perché non era costume che le persone di età avanzata non avessero foto non è che c'era l'uso di andarsi a far fare la foto e poi non c'erano parecchi fotografi per cui una persona anziana e i figli a un certo punto gli facevano un discorsio tipo papà perché non ti vuoi fare una bella fotografia che ci resta in ricordo si capivano benissimo dove voleva andare a parare mi fanno fare la foto e la fanno stampare direttamente su vetro ceramica in ovale e non se la facevano fare la fotografia quindi succedeva che morivano e non c'era la foto allora chiamavano Coglitore e Coglitore fotografava è morto e poi dotato com'era di grandissima abilità che tra l'altro allora era una prassi non solo per i morti ma anche per i vivi di ritoccare prima sulle lastre di vetro poi quando cominciava ad essere di cellulare gli occhi gli faceva gli occhi gli disegnava praticamente sul negativo per cui dopo orgoglioso di questo lavoro quando mostrava la foto diceva non pare vivo e questo naturalmente aveva creato il suo prestigio insomma di fotografo solo però che lui era diventato talmente specialista del caro estinto che quando fotografava invece gli altri giovani che cominciava ad essere un lavoro denso per la densità del processo di emigrazione che c'era a Bagheria gli venivano un po' cadaverici per cui mio padre diceva fotografo uno che ammazza i vivi e risuscita i morti i morti risuscitava ma i vivi li cadaverizzava e questo è stato il viatico con cui ho incominciato a fare questo mestiere e ho sempre trovato una definizione meravigliosa grazie volevo arrivare un po' ai fotografi ma non con delle questioni tecniche volevo chiederti di fare una riflessione sulla luce che anche questa diciamo compare nel libro io a proposito di Elio Terwitt mi trovavo con lui per un'importante campagna pubblicitaria che stavamo producendo quindi molto costosa stavamo a New York un motorhome insomma veramente una produzione importante e lui vuole lavorare solo in esterni come ben sai senza luci aggiuntive e ovviamente si stava sempre a controllare il tempo il weather e quella mattina era nuvolosissimo era molto velato e quindi io vado nello studio di Elio ti dico Elio porca miseria dobbiamo rimandare la produzione qui c'è una luce bruttissima tutto velato e lui rideva come un matto ma ha detto ma cosa stai dicendo è la mia luce preferita è la luce che preferiscono i fotografi andiamo e quindi diede il semaforo verde e facciamo la produzione e andò andò benissimo e torniamo a casa con 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 la tu dici che in Sicilia c'è una luce particolare e che adori il sole perché il sole fa ombra ma in tutti i posti in tutti i posti una luce particolare la luce non è non è soltanto un dato geografico atmosferico la luce è un dato esistenziale ed è per un fotografo è anche un dato linguistico cioè il cattemesso lui diceva per me la luce ideale è una mattina leggermente velata dove le cose sono illuminate in maniera nitida ma che non produce ombre netta no? era un sentimento che probabilmente gli veniva dalla sua infanzia normale perché quella era la luce della sua infanzia quella potevo dire io una cosa di questo genere non era possibile che mia madre da piccolo io ogni volta faccio il discorso lo ripeto mi diceva non ti scontare un cappetuzzo non ti dimenticare il cappellino che il sole ti ammazza perché il sole appunto in un posto come la Sicilia eccetera non è soltanto un lastro che illumina il mondo è anche qualche cosa che può sottintendere maledizione siccità è un dramma determina determina dialetticamente la visione il sole produce ombra e questa quest'ombra ti fa vedere il mondo in maniera dialettica bianca e nera tu cammini sulla linea d'ombra sotto i balconi per non farti venire l'insolazione c'è un libro importante di Gesualdo Bufalino di Saggi sopra la Sicilia che si chiama che ha appertito la luce e il lutto vedete come il momento dialettico della luce non è più l'ombra è il lutto è un dato di carattere psicologico sentimentale che quindi già ti pone il problema che la dialettica tra la luce e l'ombra per uno che viene dalla Sicilia non è soltanto un dato atmosferico è anche un dato storico culturale perché implica la drammaticità di un luogo la violenza delle relazioni per esempio tra l'illuminismo e cagliostro mentre si celebravano i fasti della ragione a Parigi in Sicilia c'era cagliostro e queste due cose hanno sempre continuato a convivere per cui io dico il sole mi interessa perché fa ombra e le mie immagini nascono quasi sempre a partire dall'ombra e questo non è soltanto un dato tecnico è un dato è un dato di carattere espressivo di carattere linguistico se voi guardate le fotografie che nel sud in Grecia nel Maghreb in Sicilia fanno i fotografi che vengono dal nord quelli che scendevano nel Grand Tour le loro fotografie sono apolline sono piene di luce perché questo loro cercano perché per loro questa è la grecità la classicità le cose di questo genere invece Daniel Salnav che è una scrittura francese una volta recensendo il mio libro dei siciliani ha detto ma come è nera la Sicilia di Scianna perché sono nere le nostre fotografie del luogo del sole insomma perché appunto partiamo dall'ombra perché in un certo senso dobbiamo fare i conti con l'ombra e non soltanto in senso formale ok cambiamo ancora un'altra volta registro avevo conservato questa intervista che hai rilasciato nel 2012 un po' da serial killer qua sull'estetica non te la ricordi? no conservo tutto e no c'è una una polemica che ci accompagna spesso e Ferdinando mi mi chiede ogni volta che si parla di fotografia soprattutto quando si parla di fotografia con quelli che vengono definiti curatori gente verso la quale Ferdinando ha un pregiudizio evidentissimo come ha dimostrato il suo verso siciliano ho appena finito di fare una cosa da curatore quindi il contrapasso esiste però è vero questa cosa del questa cosa del lessico andrebbe definita oggi parlare di fotografia è molto complicato bisognerebbe parlare di immagini in questa intervista dove parli di estetica dai a Cattelan del vetrinista non sono io no no tu lo dici però cito qualcuno e poi ti ricredi io l'ho aggiunto dell'opinio poi però ti ricredi subito insomma dici delle cose molto più interessanti su di lui quando vedi la mostra a punta della dogana e diciamo la 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 questione è che per te le immagini non sono mai belle ma casomai sono buone e e soprattutto le immagini devono diventare importanti per la loro capacità di costruire delle relazioni umane è un po' una sintesi scusami mia ma sono tutti ma penso perché tu pensi che quelli che invece si ambiscono a fare cioè questo nasce da 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 una serie di malintesi probabilmente nasce anche da un tipo di formazione eh addirittura universitaria insomma no o comunque eh con delle persone che erano qualcuno dice attardate rispetto a certe posizioni di carattere eh idealistico eccetera io sono stato e lo dico con un orgoglio che che va ben al di sopra delle mie possibilità un allievo di Cesare Branti a Palermo era un miracolo quest'uomo che che veniva lì eccetera e io sono stato marcato in maniera piuttosto forte da dalla posizione che era post idealistica ma comunque veniva veniva da lì per rapporto all'immagine tutto il suo carmine o della pittura la sua idea che era del processo insomma di costruzione dell'opera d'arte che lui dice si parte dal dato sensibile della mela o la donna no dopodiché a un certo punto e citava Husserl l'epochè la messa tra parentesi quando tu guardi l'oggetto per cui non lo vedi più come mela adesso me la mangio per non parlare della signora vero però la guardi a un certo punto c'è una sorta di messa in una strazione di tipo diverso per cui tu la guardi come volume come oggetto come struttura di luce che la colpisce eccetera eccetera dopodiché lui dice che poi questa cosa si sublima e diventa attraverso la tecnica attraverso la tecnè proprio il fatto che c'è uno che sa disegnare che sa dipingere che sa scrivere le frasi che è lo stesso parliamo di immagini anche per una frase letteraria e avviene questa cosa e lì c'è l'idealismo che ritorna per cui lui che lui chiamava formulazione di immagine per cui l'immagine artistica è qualcosa che continua ad avere a che fare con il dato sensibile per cui c'è ancora la mela quella che tutti volevi mangiare quando avevi fame c'è anche questa messa tra parentesi della mela come oggetto di contemplazione e poi c'è quest'altra cosa che attraverso il linguaggio produce quella cosa che è un altro oggetto che è della mente dello spirito che è l'opera d'arte bene lui in questa costruzione considerava che la fotografia si fermava a quella che lui chiama la costituzione d'oggetto cioè la seconda parte tu guardi e metti tra parentesi l'oggetto lo guardi se tu fotografi una donna fotografi una mela fotografi un paesaggio fotografi un fatto lo fotografi all'interno delle strutture formali che come direbbe Catepresson producono il senso di quel fatto ma non arrivava alla formulazione di immagini no io di questa cosa sono rimasto molto influenzato solo che poi lui è entrato in crisi quando è venuta poi nel 64 la poppart come la mettiamo con la poppart che piglia la sedia la incolla al muro e così così e lui ha scritto un altro saggio importantissimo che si chiama Le due vie in cui un po' tirandosi lui stesso per i capelli insomma cerca di uscire da quell'impasse dice che la poppart costituisce un dato nuovo della produzione artistica che è il coinvolgimento dello spettatore il pittore può anche lasciare la cosa sino a un certo punto lasciarla sino addirittura alla produzione alla proposta dell'oggetto sensibile all'interno dell'operazione di costruzione dell'opera d'arte e poi lo spettatore la completa la produce e io ricordo che a proposito di un articolo di Calvesi che ripiglia queste cose diceva ma a me va benissimo o prima della formulazione di oggetto o dopo la formulazione di oggetto perché non ci rompiate le scatole perché ci facciate fare i fotografi perché il fotografo è invece uno che la mia formula tu lo sai è stata per anni la fotografia non è arte peggio per l'arte adesso che tutta l'arte pare diventata fotografia peggio per la fotografia in un certo senso tra queste due formule si sintetizza la mia posizione perché io dico ma santo cielo dalle caverne preistoriche sino a Cattelan appunto la pittura la scultura l'arte la formulazione di immagini brandiane ha avuto la sua storia avevamo bisogno di fotografia sì perché nasceva in un periodo di carattere positivista la nascita della società industriale c'era un bisogno di palpabilità di misurabilità di calcolabilità del mondo e quindi come diceva Savinio l'uomo aveva bisogno della fotografia e l'ha inventata no si vede che prima non serviva adesso poi invece serviva questa è una buona ragione per guardare alla fotografia come se fosse una pittura allora a che cosa è servito fare la fotografia la fotografia è una fotografia la pittura è pittura l'arte è arte la fotografia è quella cosa che parte dall'arte ma parte soprattutto dalla scienza perché la fotografia è stata inventata nei cabinetti scientifici non è stata inventata negli atelier degli artisti questo bisogna bisogna ricordarselo costantemente insomma e guardare io dico questo una volta volevo fare un'antologia di testi di testi critici sulla fotografia a parte che ci sarebbe da fare una spassosissima di testi critici anche sulla pittura cambiando i pittori e applicando lo stesso discorso a pittori completamente diversi tanto pare che non ci sia relazione tra quello che dicono e la cosa di cui parlano mentre se invece uno si legge che ne so Longhi su Morandi o su Caravaggio poi guarda il quadro e dici guarda Longhi cosa mi ha fatto scoprire insomma se invece leggi senza nominarli delle cose su vari artisti ma di chi sta parlando poi ti accorgi che sta parlando di un altro tu credevi di averne riconosciuto un altro vabbè ma questo fa parte un grande critico che è stato anche direttore del museo di arte moderno per la pittura ha detto che l'imbroglio la bestificazione fa parte della cultura artistica contemporanea e questa cosa io non riesco a digerirla non mi pare che sia così non perché io penso ancora che ci debba essere il valorimetro per cui tu lo metti sotto e dici questo è buono tutte le cose che hanno a che fare con la produzione spirituale dell'uomo sono sempre ipotenti ma la fotografia è quella cosa lì per cui la prima cosa che fanno questo discorso critico che tende soprattutto a mettere la fotografia nel museo non nel museo che va bene nello stesso museo della pittura la prima cosa che scrivono è ma che questo è il pregiudizio che la fotografia sia documento di qualche cosa che sia comunque traccia di qualche cosa è appunto un pregiudizio la mia idea è che levandogli questa cosa alla fotografia gli hai tolto il 50% del suo significato storico-culturale per cui prima gli tagliano i cosiddetti dopodiché mettono gli eunuchi al museo i musei sono pieni di eunuchi culturali per quanto riguarda la fotografia ci piace questa cosa va bene credo che anche a te Ferdinando capiti di ricevere moltissimi fotografi di commentare le loro produzioni e so che questo tu lo fai diciamo con gentilezza e con piacere ma no con piacere no con gentilezza è un'altra cosa no cioè non sempre con gentilezza perché voglio dire se uno come è normale anch'io prima ma se uno ha un po' di fortuna nel suo vestire vengono la gente a farti vedere le cose è giusto e fa parte dei tuoi doveri di cittadino mi diceva Shasha non solo di fare le cose ma anche di spiegare perché certe cose ti piacciono e certe cose no perché è quello diciamo la struttura storico-culturale dalla quale si inseriscono è molto difficile perché io dico sempre il mio non è un giudizio il mio è un'opinione perché un altro invece può dire il contrario però penso sempre che nell'ambito delle cose culturali come nell'ambito del risotto o del parmigiano le cose devono comunque avere un filo comune se noi non riusciamo a parlare io penso che la cultura nasca dal terzo risotto se tu non hai mai mangiato un risotto e ti fanno mangiare un risotto l'unica cosa che puoi dire è mi piace non mi piace se ti fanno mangiare di nuovo un altro risotto tu già puoi dire questo mi piace più di quello di prima o mi piace meno di quello di prima e già stiamo cominciando a costruire un criterio di giudizio al terzo risotto dice il risotto si fa così e poi andando avanti dice quello che faceva la mia madre era il miglior risotto della terra cioè crei una struttura di carattere culturale che ci permette è di scambiarci delle opinioni perché se no ci fermiamo a me piace e a me non piace come diceva l'immortale prefetto dell'ultima provincia di Luisa Donna c'è cosa meglio di burro e a me non mi piace non può fermarsi il giudizio a una questione di gusto per questo non mi piace dire è bello o non è bello cioè a che serve l'ultima volta mi è venuta un'illuminazione perché era proprio scarsa la cosa e allora questo qui alla fine mi ha detto ma perché non funzionano queste fotografie e io gli ho detto perché non si capisce da chi hai copiato e non è un giudizio banale è un giudizio che implica una relazione culturale con una storia per cui la cosa avere consapevolezza di carattere culturale significa costruirsi criteri di giudizi che ti permettono di guardare alle tue foto alle tue pitture ai tuoi libri ai tuoi film eccetera con la stessa strumentazione con la quale guardi a quelli degli altri perché se no con che criterio lo dici mi piace o non mi piace c'era un ragazzo veneto che mi diceva io fotografo solo le cose alle quali reagisco con enorme passione faccio queste foto sviluppo le stampa io ci ritrovo quello che mi aveva spinto a fare fotografia le mostra agli altri e gli altri non ci trovano assolutamente niente è una tragedia non le mostrare più a nessuno va bene non avevo neanche fatto la domanda però lui ha risposto lo stesso grazie ma no in realtà volevo chiederti un po' più io insomma ne vedo anch'io moltissimi e di fotografi che mi presentano i loro portfogli eccetera e proprio recentemente ne ho visto uno che ha raccontato Milano poi adesso con sta roba dell'Expo tutti che fanno i lavori su Milano sperando di trovare poi delle vie dell'accessibilità però vabbè e ha fotografato Milano prendendo spero non sia in sala in primissimo con dei grandangoli pazzeschi hai visto esatto ahimè insomma prendeva sti tombini in primissimo piano quasi raso terra il tombino era l'unica cosa a fuoco e poi dietro si vedeva una Milano ovviamente sfocatissima dove non si vedeva niente ed erano 25 fotografie tutte uguali così una tragedia come dici tu di tombini non che i tombini non abbiano la dignità per essere fotografati per carità e dobbiamo giustificarsi anche dal fatto che non ce ne frega niente esatto e quindi io cercavo di spiegare a a questo fotografo che cosa non andava di quel lavoro arrampicandomi un po' sui vetri e ti ho citato ovvio se devo stronchiare qualcuno faccio ricorso al maestro appunto all'artista e gli ho detto no perché sai però vorrei che la completassi tu la frase perché è un po' come Cip e Ciop la differenza tra lo stile e lo stilismo perché questa è poi è una questione secondo me molto importante nella fotografia la fotografia non è in tutto in tutto certo ma a proposito poi ti lascio subito ma quando parlavi della Sicilia in qualche modo dichiari un punto di vista sul mondo no a partire da lì perché sei nato lì perché hai avuto delle storie e quel punto di vista ti rimane e poi a un certo punto quando ti confronti con la realtà la devi fare sta scelta tra lo stile e lo stilismo lo stile guarda lo stile è quello che gli altri ti riconoscono non è che è una cosa cioè io dico sempre se tu parli parti dalla fotografia dove arrivi la fotografia la fotografia è uno strumento lo stile è quella cosa che la realtà ti impone per essere detta è che se tu c'è un talento iniziale e poi un'ossessione che lo fa affinare il talento eccetera poi gli altri lo riconoscono come tale ma tutti cercano lo stile perché il discorso è che cercano la riconoscibilità perché è il criterio col quale si accede alla pittura ma la pittura non è lo stesso è difficile identificare una fotografia a partire dallo stile perché non è che c'è la mano è che tu dici la pennellata lunga di Van Gogh oppure ci sono delle ossessioni dello sguardo che poi a poco a poco nel tempo finiscono con creare un modo di appoggiamento però io cito una frase di Shasha che ho detto ma che differenza c'è tra lo stile e lo stilismo in questa epoca in cui si confondono parecchio molto spesso e lui laconicamente mi disse lo stile si nutre di idee lo stilismo di trovate ecco ora a volte dentro le trovate c'è il germe per un'idea ma molto spesso e questo succede insomma se tu attraverso un'idea hai prodotto qualche cosa poi te la continuano a richiedere tu la fai diventare una trovata la utilizzi come uno strumento per comunicare qualche cosa di consumabile ecco diciamo che guarda una volta naturalmente è sempre lunga la faccio ma comunque una volta è venuto un fotografo interessante che poi ha pubblicato il suo bravo libro che aveva fatto una serie di ritratti di poeti molto disciplinatamente era andato a cercarli tutti eccetera però li aveva fatti tutti allo stesso modo cioè si portava dietro un fondo nero e li fotografava con una polaroid sostanzialmente dalla stessa distanza non che volesse fare una foto giudiziaria ma questo implicava un metodo di partenza come toscani sì no come toscani sì peggio di toscani che è quanto dire insomma che è quanto dire ma comunque e alla fine ho detto cosa ti pare io ho detto guarda funziona funziona e ti pubblicheranno il libro eccetera però guarda che questa è una trovata non è un'idea perché tu hai messo il carro della maniera di farle prima dei buoi del ritratto allora il ritratto non è un sistema non è Bertignan che fa la fotografia giudiziaria ogni uomo è diverso e quindi ci vuole io devo sentire che il tuo approccio per ciascuno di questi uomini di questi poeti eccetera eccetera implica la tua ricerca della peculiarità dell'uomo che hai di fronte e quindi della peculiarità del tuo sguardo per rapporto a quell'uomo lì però questa cosa qui darà l'impressione di un approccio stilisticamente coerente e vedrai che ti pubblicheranno il libro lui è rimasto un po' toccante a questa cosa e mi ha detto io penso che tu abbia ragione possiamo non dirlo fino a quando esce il libro allora siamo quasi in chiusura credo io avevo ancora una brevissima questione non so se sono previste domande dal pubblico due due domande ma se 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 volentieri volevo volevo però hai citato avevamo appena cominciato hai citato a proposito di stile stilismo eccetera trovate questa parola che ancora è la seconda idiosincrasia che tu hai quella verso i collezionisti come no non li conosci ed è verso le famose icone tu l'hai detto non l'ho detto io no questo è un altro dibattito che è in corso da un po' con Ferdinando io sono convinto che ci siano delle icone tra l'altro avevamo scelto anche cinque immagini da commentare ma sono forse mettiamo e quindi insomma queste icone cioè voglio dire poi a Vasco Rossi chiedono sempre la stessa canzone eccetera è un po' hai cambiato idea su questa cosa delle icone le riconosci è una discussione ma questo esiste per la fotografia come per qualunque altra cosa di icone si parla di cose del tipo figurativo cioè l'icona l'icona nessuna immagine nasce icona icona si diventa non ho come dire e il più delle volte diventa icona un'immagine che rimanda ad un'altra immagine per essere icona è questo è un po' come come si dice per esempio la creatività questa è un'altra parola che a me mi fa venire il prurito perché teoricamente insomma il creativo dovrebbe essere detto solo di Dio usato a passato perché se creare vuol dire fare dal nulla è solo una invece no è diventato un mestiere cosa fai faccio il creativo in qualche agenzia pubblicitaria il creativo è un mestiere ti pagano per fare il creativo una volta un amico americano gli ho detto ma anche il sabato e la domenica dice no e neanche nel periodo estivo lui crea soltanto in giorni infrasettimanali insomma ma per esempio dire che uno che lavora nella pubblicità fa il creativo significa che crea delle cose attraverso un linguaggio nuovo ora se c'è una cosa che un pubblicitario non può fare non deve fare e se la fa è un cattivo pubblicitario è di utilizzare un linguaggio nuovo per comunicare qualche cosa che vuole vendere perché deve utilizzare per forse un linguaggio che gli altri hanno digerito in modo che possa funzionare il suo messaggio questo diciamo è intuitivo ciò nonostante il mestiere di utilizzare le cose che già esistono per vendere delle altre cose che esistono creando il malinteso che so per dire che se tu usi questo rossetto allora insomma sesso a volontà e questo se lo credono anche certe signore come quella mia cugina che io ho cercato di trasformare in marpesa facendo le foto che non avevo fatta ma comunque la quindi icona è qualche cosa che ha bisogno di un riferimento che so per esempio pensiamo alla fotografia classica di Che Guevara Che Guevara del manifesto fatto da Feltrinelli eccetera eccetera Feltrinelli va a a Cuba e trova nell'atelier di 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 Corda questa fotografia di Che Guevara che è una fotografia orizzontale il mio lavoro sul ritratto che sto facendo le mostri tutte e due eccetera dove c'è un piccolo profilo a destra e una pianta a sinistra e lui è in mezzo e lui prende questa fotografia dopodiché ne fa un manifesto che è stato venduto a centinaia di migliaia se non a milioni di copie ma com'è quel manifesto il manifesto taglia la fotografia in maniera verticale e la struttura compositiva di quella fotografia è quella del Santino lui aveva aveva i capelli nazareni eccetera quindi quell'immagine che si riferisce ad una icona costruita nei secoli del Cristo appunto che toglie i peccati del mondo e quindi eroe di libertà di giustizia eccetera eccetera e la fa ricevere da una collettività molto grande per cui va a finire anche nelle scatole dei lassativi come c'è finita anche la Gioconda insomma per esempio la fotografia dice che era fatta da René Burri che pure ha avuto un successo planetario non è mai finita sulle scatole dei lassativi perché siccome è migliore fotografia più complessa più psicologicamente approfondita non si presta a diventare un'icona di massa come quella la fotografia di Robert Capa del miliziano non sarebbe diventato un'icona se alle spalle non ci fosse stata la fucilazione di Goia che in un certo senso stabiliva il parametro figurativo appunto iconico con la quale quell'immagine viene ricevuta e questo la trasforma in un'icona eccetera eccetera quindi non è che dice adesso faccio un'icona le immagini diventano oppure vengono riconosciute come tali e il più delle volte vengono riconosciute come tali perché cioè tu non le vedi le riconosci cioè evocano dentro di te un deposito di carattere culturale figurativo che trasforma quella cosa in un'immagine paradigmatica fanno gli anni e allora gli facciamo la foto oppure quando dormi che è questo meraviglia e allora gli fai la foto cioè un momento che tu pensi che valga la pena di preservare uno dei monumenti culturali più straordinari dopo l'invenzione della fotografia io credo che sia l'album di famiglia i due grandi monumenti sono l'album di famiglia il casellario giudiziario e la carta identità la carta identità in maniera gigantesca perché tutti quanti che siamo in questa sala abbiamo in tasco un documento che si chiama addirittura di identità pensate voi una cosa così delicata talmente talmente delegato a quella che è la nostra identità che se vuoi fuori mi forma un poliziotto e ti chiede la carta identità o la patente non vuole che la fotografia assomiglia a te vuole che tu assomiglia alla fotografia è la fotografia che deposita l'identità quindi il presente viene autofaggico si mangia da sé quindi il problema non è tanto quello di emettere un giudizio di carattere etico si tratta di capire che cosa sta succedendo a me cosa già succede da un bel pezzo a me non importa molto della fotografia francamente non mi è mai importato molto insomma mi interessa quello che può raccontare la fotografia ma penso che il mondo da 49 se non mi sbaglio in un libro di McLuhan si continui a darsi da fare per illustrare questa frase di Marshall McLuhan che sembrava che sembrava una battuta di spirito e che invece è diventato il cartiglio del nostro rapporto con le immagini oggi una signora incontra un'amica sua che ha avuto appena un bambino ed è una carrozzina e dice ma che bambino meraviglioso ma questo tuo bambino è davvero stupendo ma è bellissimo questo tuo bambino e la mamma le dice e non l'hai visto in fotografia ora questa cosa qui non è una battuta di spirito è il fatto che McLuhan ha capito che il carro era stato messo davanti ai buoi che l'immagine era diventata più importante e addirittura prendeva il posto della realtà allora quella cosa è il telefonino si fanno anche delle eccellenti fotografie con il telefonino abbiamo adesso uno pure a magno però il problema non è con cosa le fai insomma a Picasso io ho detto ma se ti mettessero in galeria e non avessi neanche i colori per dipingere cosa faresti e lui ha detto dipingerei con la mia merda è una meravigliosa materia per produrre delle immagini quindi il problema non è con cosa tu produci il tuo prodotto di comunicazione cioè i linguaggi servono a comunicare non è che l'uva serve a fare il vino nessuno ha mai prodotto del vino per fare l'uva e questo è il punto della situazione quindi non è un giudizio di carattere morale è una specie di termometro di presa d'atto di quello che noi stiamo vivendo ma non è una cosa che riguarda solo quelli che le fanno tutti le facciamo e tutti le riceviamo per cui siamo molto confusi sulla realtà molto confusi su quella che è le cose che vengono prima dell'immagine perché l'immagine è sufficiente io penso che la chirurgia plastica venga da ritocco fotografico e che tra qualche anno chiunque non sia contento del proprio naso non se lo fa cambiare verrà considerato un tipo strambo e attardato grazie 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 a tutti grazie a tutti